Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video rivelati supporti tachionici barra galaxy da Duelist of Bryants quindi vediamo che cosa uscirà fuori prima di iniziare come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi i nostri anali prima dei sempre aggiornati ricordo che l'iscrizione ci aiuta tantissimissimissimo io vi ringrazio detto ciò partiamo parto anche dal presupposto che io tachion e galaxy non è che sia sto grande esperto quindi mi avvalorerò del vostro aiuto avete sentito quel pizzico di incertezza per dire la parola e voglio te allora vediamo galaxy eyes tachion primal bellissimo bellissimo 32005 se c'è un drago x is sul terreno possiamo carlo specialmente dalla mano su un qualsiasi terreno se viene evocata il proprietario aggiunge una maggior trappola tachion dal deck alla mano quindi prende anche la trasmetation che non è male perché insomma gatti a catena 2 progine di tutto la tv anche da ht al limite ti devo dire ti devo dire va bene quando un drago x is dichiara l'attacco attacchiamo questa carta sul terreno come materiale che non è male cioè attacchi prima con questo poi l'attacchi con il materiale e fai robina interessante interessante anche perché comunque si evoca facilmente un addino e ci va bene così ci va bene così dai 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 va bene poi tachion claw dragon se questa carta viene aggiunta alla mano è populous aggiunta alla mano eccezione della pescata la evochiamo specialmente possiamo tributare questa carta per evocare specialmente un taglio dal deck al cimitero ad eccezione di lui il che è molto forte perché puoi anche evocarti lei se evochiamo specialmente un drago 1 più drag x is possiamo targettare uno di essi ed attacchiamo questa carta come materiale al cimitero se al cimitero era lì quando è stato evocato il mostro oppure dalla mano anche se non era lì ok quindi se viene aggiunta dopo lo per attacchiare va bene è molto interessante è molto interessante anche perché poi un livello qua c'è 300 250 però un livello 4 quindi pure quello va molto bene far child infinity dragon sembra anche che l'ho pronunciato bene allora possiamo attivare questa volta per turno non possiamo andare specialmente mostri le xl deck il turno in cui attiviamo questo effetto eccezione tra gli uni tra i x is è brutto perché ti lo chi ha il galaxy vabbè il numero 90 anche questo è un pochino brutto questo un pochino brutto però vediamo se non controlliamo mostri dell'avversario controlla mostri con 2000 attacco superiore possiamo car specialmente dalla mano e se lo facciamo evochiamo specialmente un livello 8 luce o un drago oscurità dal deck in difesa e però è forte è forte perché ti evoca praticamente tutto quello che ti pare sostanzialmente non può fare pure tipo cose con riverbero se riesce ad attaccartelo come un materiale poi sotto lo stacchi giochi il fotone che ne so un po di roba lo puoi fare comunque già che il fatto che ti calo a mostri l'ho 8 è molto molto buono ok diciamo sono tre mostri di main molto molto interessanti perché comunque c'hai una dino molto forte che si evoca facilmente lei che ti permette di evocare un taglio dal deck o cimitero se aggiungi la mano levo che tranquillamente l'effetto poi di costo cioè tributi ed evo che quindi manco puoi dire che ci possono tirare troppi ht quindi nell'attacchio materiale questo tt lo capo tipo fare evocazione interessanti traduzione è questo interessante vediamo che cosa interessante non sono anche l'effetto allora se questa carta viene guarda specialmente all'ex ad è che possiamo aggiungere una carta galaxy ottaglio dal deck alla mano è già qui è già qui portiamo bene possiamo staccare due materiali da questa carta per evocare specialmente un rank drago x is con 3mila di attacco all'ex ad è che utilizzando questa carta e controlliamo e poi attacchiamo una carta galaxy dall'extra deck come materiale viene trattata con l'evocazione x is allora è molto interessante perché comunque ti fa evocare di renko 8 magari però con 3mila di attacco all'ex ad è che oddio è un po allora è buono però diciamo che ti fa attaccare soltanto un galaxy dall'extra deck perché metti magari potevi giocare qualche c buttandoci galaxy ai però il problema è che tutti i mostri c magari fanno tipo 4000 e 35 quindi è un pochino complicato ok sicuramente per 107 e magari poi è fattibile tutto il resto però mi manca un qualcosa per renderla un po più pagata perché nel senso se magari ci potevi fare tutti gli c sarebbe stato enorme perché magari ci mettevi non so quello che gli serviva come materiale anche se alcuni vogliono proprio il drago fotonico occhi galattici quindi quello te lo prendi dal mazzo delle occhi tranquillamente ci fai gli x is quello che ti serve quindi ok per quello puoi utilizzare il restante comparto del deck questo magari non lo so aiutatemi voi è forte perché comunque ti fa dino e comunque ti fa fare un x is pure se non c'è mostri certo lo fa fare ovviamente tranquillamente con lui è un altro dell'extra deck e va benissimo quindi comunque la sua utilità c'è quindi va bene però insomma mi serve un vostro aiuto perché ti vedo l'ho detto subito faccio schifo allora poi abbiamo tachio lo spiral of destruction se controlliamo un galaxy x is distruggiamo tutte le carte scoperto scoperte dell'avversario con gli effetti negati che potrebbero essere parecchie galaxy galaxy italian allora attiviamo gli effetti ma soltanto uno ciascuno uno ciascuno uno ogni effetto una volta aperto uno fondamentalmente targettiamo un taglia nel cimitero eccezione di lei la aggiungiamo la mano targettiamo un drago numero nel cimitero e vogliamo specialmente in difesa può essere molto molto interessante molto interessante se posso attivare uno soltanto vabbè lo potresti fare anche a ripetizione non nello stesso turno però insomma ha tre effetti abbastanza interessanti quindi molto buono la carta rapida molto buona molto interessante e poi abbiamo lord of the tachion gala aspettate vi faccio vedere la carta giustamente molto carina semplice molto carina lord of the tachion galaxy anche questa è addabile vabbè fin fine sono tutte addabili no perché lui vuole prendere su uno tachion anche questo ok possiamo attivare una di questa carta con il nome di questa carta una volta aperto uno se controlliamo un galaxy tachion dragon galaxy ai tachion dragon possiamo attivarla dalla mano durante la battle face stacchiamo materiale da un galaxy se controlliamo numero c l'attivazione l'effetto non poi di questa carta non possono essere negati meschiamo tutti i mostri dell'avversario evocati normal evocati specialmente questo turno del mazzo è fortissima è fortissima soprattutto con lo c è fortissima soprattutto per mostri c veramente forte che alla fine alcuni sono molto fattibili si fanno facilmente e ci potrebbe stare con c 62 è proprio la morte sua già quello tranquillo fate attacchi su mostri ok solo su mostri però insomma 4000 ultra pompatissimo e poi vediamo l'artwork alternativa di numero 107 scusate molto molto figlia che poi è quella di copertina allora in sintesi sono dei supporti molto interessanti perché comunque mostri di me ne sono molto figli sono molto molto buoni che ti consentono di fare delle cose molto interessanti abbiamo visto comunque equazioni dal deck aggiunte evocazioni speciali tranquillamente li potete attaccare come materiale possono possono comunque dare una mano enorme sia voluti abbastanza facilmente quindi è molto molto interessante come meccanica l'exis può essere comunque utile perché ti te lo te lo fa fare utilizzando lei un altro exis dall'extra deck quindi va bene va bene la carta magia continua come rapida scusate comunque degli effetti molto molto interessanti e la trappola può essere attiva anche da ht che mi mischia tutti i mostri che sono stati praticamente in quel turno può essere veramente interessante sono dei supporti niente male secondo me secondo la mia ignoranza secondo non sono per nulla male forse comunque gli serve magari qualcosa di più non penso che comunque il mazzo diventi troppo competitivo anche con questi supporti però comunque non solo male sono interessanti vedremo cosa il mazzo riuscirà a fare con queste carte detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa pensate ovviamente noi come sempre ci vediamo in un prossimo video e un saluto a tutti